Un cartellone ancora più ricco di eventi per cancellare la delusione estiva e donare Esernia una serie di appuntamenti di richiamo nazionale. È stato presentato oggi il programma del settembre Isernino. Si comincia l'ultimo weekend di agosto con Capolinea, terra di lavoro, e con l'evento Clou Magna Storia. Si proseguirà poi con l'undicesima edizione del Festival Tetracordo, con una particolare menzione per Giuseppe Vettine, l'Isernino considerato il paganini del mandolino, e con le semifinali del premio d'Andrè. Concerto con un big nazionale, invece, in piazza Andrea di Sernia il 22 settembre, per le celebrazioni dei Santi Cosma e Damiano. Il programma è molto completo. Devo ringraziare soprattutto tutti gli organizzatori, tutti quelli che hanno deciso di mettersi a disposizione, di mettere a disposizione del Comune la loro idea, perché proprio grazie a loro si è riuscito a costruire un programma così variegato. Ci sono degli appuntamenti importanti. Mi piacerebbe che tutta la città riuscisse a coinvolgere i gruppi di amici, parenti che vivono altrove, perché veramente, guardando il programma, in ogni fine settimana, anche lungo, se vogliamo, anche da giovedì a lunedì, si trova un festival diverso, un appuntamento diverso all'anno gastronomico, un'opportunità di confronto anche su temi più importanti. Il settembre di Sernino sarà anche all'insegna della Buona Tavola, con Sapere e Sapori, edizione speciale che si svolgerà al Parco Stazione. Il sogno non mio, anche di tutti i miei collaboratori, è quello che avendo i Serni a 52 paesi della provincia, ogni paese partecipasse nel nostro capoluogo. Siamo il capoluogo, quindi insomma diciamo che così vuole la prassi. Quindi sì, questo sarebbe il mio sogno, però iniziamo quest'anno, anche se saranno 10-12 stand per noi va benissimo, e vediamo poi nel futuro che cosa succederà. C'è anche una cosa importante, che è il raduno dei bersaglieri, che non abbiamo detto, è il primo raduno regionale che si farà a Diserni, è il primo settembre, quindi insomma tanti bersaglieri, nessun ex bersagliere, perché come mi dicevano e mi suggerivano, i bersaglieri sono sempre bersaglieri anche a 100 anni, e quindi niente, il programma è abbastanza ricco, ci auguriamo sempre che insomma il tempo faccia la sua parte, non faccia così caldo come adesso, ma insomma quantomeno non piova, ci faccia respirare, e quindi niente, buon settembre di Sernino a tutti.